La legge non è arrivata al Parlamento, se non mi sono sicura, non mi sembra, non mi sembra, non mi sembra, non mi sembra. In verità non sa che il collega Misha di parte di quale sono, di, quando mi sembra? Di gobierno, di frazione in tutto il caso del Parlamento, junto con il signor Miguel Manzur di Acción 21, da l'iniciativa Neymarsan di una legge presentare, la quale da riguardare parte del matrimonio di messo e del sexo del Parlamento. La legge arriva su messo, sta cambiando su trayectoria, e anche le tiene due cose passando al mismo tempo. Non sta cambiando la trayectoria della legge, per la legge per accedere il matrimonio di messo e del sexo di Aruba, una volta che passano la legge, Aruba va a accedere. Nel mismo momento, c'è un gruppo con un giu, un giu, un giu, un giu corte, per perdere il primo caso, il buyback di Hojberup, e la gana è caso qui, per Aruba per accedere, in tutto il caso, il quale trattato è parte legale, non si mi se accentua, di parte legislativa, legale, passo per misa in nostra conta, logicamente, per accedere, e riconoscere, per accedere il matrimonio di messo e del sexo, nel sistema constitucionale. Non sa che il governo, mi ha accettato una decisione che mi ha fatto, che mi ha fatto, che si è stato fatto in una corte di casazione, si o no, per lo qual trattato, brinca e parte, con un giu adicto, arriva, un Parlamento, che è quello che mi ha fatto introduzione. e quindi, sinceramente, se a me parla per l'igualdad, sì, però, naturalmente, non si non mi associa, l'igualdad, con, semplicemente, la parte di accedere il matrimonio di messo e del sexo, la igualdad, in tutto il terreno, è una cosa, che mi ha detto, con l'igualdad, non è ben simplicemente, per un gano, per un gano, per un gano, che si escoge il messo e di casa, per esempio, la parte di lavoro, questa è una cosa che non è un giusto, non è, non la differenza di un uomo e di uomo, se fosse prima o dal giro, avete fatto un gano che è un uomo e di uomo, avevo la moghe o più, comunque non sono sempre un uomo, non è un giusto ancora fatto di un uomo, ma che già avevano come in un uomo, non è disegno il mondo, è un uomo e non è un giusto, e l'aglamento, non è una cosa che mi ha detto, ma il borgio, c'è una piazza, non è un giusto, ma per la sua parte di 1963, perché mi ha detto che ci siamo accenari, l'oggetto mi parola per la igualità, ma anche il partito politico ha un... la militazione, la gente non ha contato suporto, non si mi si escucha. Se mi te accadeva per rispondere, se mi accadeva la legge che si off no, in primo lugar mi lo vise vanguarda il resultado del corte di casazione se il governo tome decisione qui, se si corta, pensa a noi. Come ti accettate, non sono per nanguere, io ti accettate a Aruba, se è uno, ma non voglio sentire che mi mette due partiti, che voglio portare la politica qui, e mi è un po' lamentabile la politica che è un po' e la fine del giorno, se voi conosce, mi metto il tempo, quando si passa la registrazione che mi metto il sexo, che mi metto il tempo, e mi metto il tempo, mi metto il tempo, per il gruppo qui, ma anche tenendo in conto che tutti i nostri opinioni, come politico non è una buona opinione, questa è la opinion di tutti i nostri che mi metto il gruppo, ma non è un gruppo, non è un gruppo, non è un gruppo, non è un luogo, ma non scary, ma non soddisfiullo solitare, che non rispettano da tutto qui,